Svolgeva ristorazione abusiva avvalendosi di 5 lavoratori irregolari, il titolare di un'associazione sportiva dilettantistica di Laureana Cilento. Oltre all'assoluta evasione di imposta, i 5 dipendenti addetti alle mansioni di cuochi e camerieri lavoravano totalmente in nero. Maxi sanzioni per il titolare pari a 21.000 euro, oltre alla segnalazione agli organi competenti per la sanzione accessoria di sospensione temporanea dell'attività. E la titolare dell'associazione dovrà regolarizzare la propria posizione nei confronti del fisco e quella dei lavoratori.